Se vado a sovrapporlo alla mia base del post-it naturalmente non lo vedo, invece io adesso andrò a dare una sorta di ombreggiatura al mio post-it, alla mia orecchietta e quindi potrò distinguere rispetto al mio sfondo, altrimenti avrei dovuto modificare tutto lo sfondo e invece a me serve soltanto che questo triangolino venga valorizzato in questo momento. Bene, la prima cosa che devo fare è andare a creare una sorta di ombreggiatura alla base del mio post-it, questo perché? Perché nel momento in cui io vado a realizzare un orecchio al mio foglietto naturalmente si crea un'ombra alla base e quindi dovrò dare una sorta di tridimensionalità a questo mio triangolino. Allora, cliccando due volte sul livello dell'orecchia oppure cliccando CTRL Allora, cliccando è sottoesa. Grazie a tutti.